Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Life is Strange Nella scorsa puntata abbiamo tipo innescato delle bombe nucleari in tizi che vorrebbero ucciderci solo perché eravamo lì Mentre lui usava una pistola e ok sì questa è in effetti un'ottima idea Oggi c'è la luce quindi tranquilli che nella scorsa puntata ho visto che in effetti non c'era tanta luce Ed era un po' problematico ma ehi ho risolto il problema Non preoccupatevi, guardatevi l'episodio e ci vediamo più tardi con la parte bella Ciao ragazzi allora bentornati siamo qui mentre ci hanno salvato tipo e siamo felici Un giorno speciale sì grazie per avermi salvato da un tizio maniaco che vorrebbe uccidere Interessante Perché? Ah giusto perché in effetti ti ha pensato dalla morte Spero nulla Faccio così Ecco Beh Beh sai com'è Ehm credo si faceva schifo Apriamo molto a Chloe che in realtà non sappiamo nemmeno chi è Quindi vediamo Punto com No Solo ben Mark Jefferson No no naturalmente c'è ok Cioè mi sembra giusto mi che diciamo che ci facciamo professore Eh sì 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 Più o meno Scusami Ehm Volevo Volevo ma mettiamo una scusa Esatto Sai com'è potevi chiamare anche tu Cioè questa è una cosa ovvia Sicuramente Ti avrei chiamato prima o poi Scusami se faccio i fatti miei Mentre tipo ho scoperto che All'improvviso posso manipolare il tempo Però questa è abbastanza mainstream direi Come va comunque T'apposto? La morte ti attende? Ancora? Eh ok Ed io macchina fotografica Lol Lol Ecco qui Questa è la grande zona ragazzi La casa di case Fatte di caso ovunque E' bella questa zona Mi piace E' abbastanza accogliente forse Finalmente a casa Finalmente scopriamo dove abita Max O almeno dove abita Chloe Per il momento E scopriamo Magari cosa può fare su loro Perché in effetti Non sappiamo quasi nulla sui loro In effetti In effetti In effetti Però Ehi Fa nulla Tecnicamente Non esistiamo Ok se c'è un sacco di stronzate Così giusto perché L'atmosfera bella Brilla E carina E ci può stare Tipo fa un caldo tremendo Ragazzi Quindi Diti grazie Che sto registrando Con la finestra chiusa Se no Sì è un casino mortale Ed ecco qui Wow Ci sono fumetti ovunque Ci sono poster Everybody lies No exception Tutti mentono Senza esenzione Sì tipo Think like a man Ehm Ehm Quel fiuro Ehm Mettite la musica Ragazzi Non so perché Ma questo potrebbe essere Una brutta cosa Accendiamo Ah ok Devo solo capire Dove si accende Di qua Perfetto Accendi Ok Vai Ehm Che figata Ditemi che non è una figata Sta cosa ragazzi Troppo bello Eh ok Ehm In realtà non so come si può Ah beh In realtà non so se tipo Si accende con i cd Ehm Non saprei Ragazzi dove stiamo nel cassetto Oh guarda che figata Ha fatto molto bene Però vi stiamo nei cassetti Delle amiche Che bello Siamo davvero Dei bravi ragazze Mi dicono No Ecco Com'è attivo sto coso Volantino persona scomparsa Ancora Quei lucetti Mi piacciono un sacco Parla Stai fumando? Ehm Partito della notte Sì sicuramente Certo Certo Esatto Cosa è brutta La cattiveria Va bene Sì non rompere Ok Ehm Capito che sei stronza Ehm Cos'è? Ehm Cose Cerchiamo Ehm Ormai è cambiata Ehm Cose brutte Chloe Ah wow Bello Quelle altezze Armadio Vediamo un po' Questo è un flashback A te Un super secret Un armadio Giusto Oh una borsa Vediamo un po' Cosa c'è qui dentro Che schifo Ci chiamo su? Cosa c'è su? Non ci arrivi Max? Bravo Max Prego Possiamo anche tornarci Non ce ne frega quasi nulla Questa cosa Ok Chloe Guarda che differenza Chloe Guarda com'era C'aveva il gattino Un tempo era molto diversa Mi dicono Sì sì però Devo capire cosa fare Andiamo un po' Ah Ah ok Ehm Ci sono i cd? Lol Insomma Sembra fatta di tutto Perfetto E devo trovare Sto benedetto cd Ragazzi sapete? Ah eccolo lì Forse quello Vediamo Oh Eccolo qui Il nostro cd room C'è anche una foto sua Da piccola Presumo Quando in realtà Aveva tipo anni Ah wow Era una grande amica Presumo Quella è Rachel Amber Ma non so chi è Facciamo chi è So Who is she? Do you mind talking about her? Rachel Amber She was my Angel Angel After my dad died And you moved I felt abandoned Rachel save my life Peccato ragazzi No idea Grazie Non è esatto Non mi hai mai chiamato Stronza Non ti mentico mai Non proprio Non proprio Perché voleva Ah E la tizia Si è scomparsa Regà Ok Che è successo Componiamo i pezzi Non ti riasse Non penso che sia scomparsa Non penso che l'aveva detto Cosa dicono i suoi genitori Cosa dicono i suoi genitori? Sono in denial Max I know she's missing I assume you know more than that Esatto Ecco Lo sapevo Se vuoi ti aiuto Posso andare indietro nel tempo Così tanto Non penso così tanto Ma in realtà Potremmo volarci Non vuole più parlare Vuole retto Giustamente Dice Ehi Sei stata assente Per tipo Quattro anni Anzi no Quattro Sei anni Porca vacca Potevi anche chiamarmi Porca vacca No Sono passati quattro anni In realtà Quindi in effetti Ehi chiamami stronza Almeno Ok Spero di non copyright Sennò un problema grave Un po' di musica Giusto per rilassarci Ma io non posso sentirla Perché sennò abbiamo copyright Quindi Sorry per la musica Assente Not my fault Fuma Fuma Uccidi la gente Brava Brava You can find tools To fix your camera In the garage Chloe Are you alright? No Ok 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 Ma lasciamo Ci parliamo ragazzi Che dite Parliamoci Parliamoci Ah che palle che sei Me ne vado Me ne vado Me ne vado Ciao È stato bello Vai a cagare Ok andiamo A fare i ficcanasi Nella sua casa Perché in realtà A noi interessa Il suo bagno Ragazzi A noi interessa Il suo bagno Oh Dark I cannot see Anything Posso accendere la luce? Oh Ragazzi Guardiamo This is definitely Joyce's makeup Chloe wouldn't use Animal products Doll Ecco Classica animalista Insomma I like Chloe's new hair color She's the opposite of shy Of me Tinta per capelli Wow Fego Carino Però no Not bad Cassetto Premiamo il cassetto Facciamo tipo le persone Cos'è questa roba Compressa di influx Stile Formacisti Sono pregati Di dare anche Il foglio illustrativo Insomma Lei Non andare in giro Per le case Farsi un po' Fatti i suoi Sono l'opposto Mi dicono Ragazzi Noi però Ci salutiamo Per questo video Ci vediamo Nel prossimo episodio In cui E quindi Noi ci vediamo Nella prossima puntata Ciao 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 Grazie a tutti.